Sul territorio di Carmignano esistono 17 pozzi d'acqua gestiti dall'Etra che prelevano attualmente 1300 litri al secondo immessi nelle reti acquedottistiche regionali per servire soprattutto il Padovano, il Vicentino e anche parte del Rodigino. A causa della crisi idrica esistente il prelievo di acqua a Carmignano aumenterà a 1500 litri al secondo, rimanendo comunque dentro il tetto massimo di 1750 stabilito dalla valutazione di impatto ambientale. Una situazione ancora accettabile ma ad alcune condizioni. Ed è per questo che chiediamo alla regione con forza di rilanciare l'accordo di programma che prevedeva opere di completamento dell'acquedotto in particolare per la frazione di Camazzole e dall'altra parte opere di ripinguamento della falla per tutelare il bene prezioso dell'acqua. Iniziative previste che oggi sono assolutamente prioritarie ribadisce Pasqualon che con l'occasione ci tiene a smentire la realizzazione di nuovi pozzi sul territorio carmignanese come riportato in modo errato da alcune testate giornalistiche della provincia di Rovigo.